Il microchip sottopelle, qualcuno può pensare a un pezzo di Blade Runner o qualcosa del genere, fantascienze, film, Hollywood, Netflix e quant'altro. No, diciamo invece che è la verità, è la realtà. Siamo andati in Svezia proprio per vedere intanto a cosa servono e due, com'è il processo di impiantamento. Questo è un microchip, un piccolo circuito all'interno di una capsula in vetro, grande quanto un chicco di riso. Viene inserito sottopelle con una siringa e permette di aprire le porte, fare operazioni bancarie e trasferire tutte le vostre informazioni personali con il semplice movimento di una mano. Se state pensando che sia fantascienza, vi sbagliate di grosso. A Stoccolma, questa è già realtà. In questo complesso, che si chiama Epicenter e raccoglie 100 fra start-up e aziende, ben 150 lavoratori aprono le porte, fanno le fotocopie, proprio grazie a un microchip impiantato sottopelle. Ma hai aperto la porta solo avvicinando la mano? Sì, perché nella mia mano ho un chip. Sostituisce carte e badge. Lo uso per entrare in palestra, aprire la macchina. Mi rende la vita più facile e, se avvicini il tuo telefono alla mia mano, sarai anche in grado di vedere tutte le mie informazioni personali. È come avere un biglietto da visita direttamente dentro la mano. Vedi, se tu avvicini il tuo smartphone, ti appaiono tutti i miei contatti, l'indirizzo di lavoro, la mail. I dati li inserisci dal computer o da una app. Ci puoi inserire qualunque tipo di informazione. E anche le coordinate GPS, se tu vuoi sapere dove vivo e dove lavoro. Adesso ci apro anche le porte di casa, ma in futuro mi piacerebbe poterlo usare al posto della carta di credito. Così posso buttare via tutto, anche il portafoglio. In totale, nel mondo, hanno già un chip sottopelle tra le 30.000 e le 50.000 persone, che lo usano per le attività più disparate e, in un certo modo, sono diventate loro stesse un dispositivo pieno di informazioni e in grado di essere letto. Io me lo sono impiantato nell'agosto del 2015. È un po' come diventare Robocop. Penso sia una prospettiva interessante. Ma non ha paura che nel futuro le informazioni siano rubate o che possiamo essere controllate? Sì, può essere, ma già Google e Facebook sanno tutto di me. Questi chip presentano una serie di problematiche. Pensa, per esempio, a quello che può essere un ambiente lavorativo. Se un ambiente lavorativo è pieno di rilevatori di questi chip, il titolare dell'azienda potrà sapere con esattezza quante volte una persona passa da un determinato corridoio, quante volte apre la porta, per esempio, del bagno, o quante volte esce dal proprio ufficio. Un altro problema è che è molto facile copiare i dati. Questo perché? Perché con qualsiasi telefono è possibile non soltanto inserire i dati nel chip, ma è possibile anche leggerli. Il sistema però sta prendendo piede, tanto che in Svezia la SJ, uno dei principali operatori ferroviari dei paesi del nord, appena due settimane fa ha lanciato un esperimento, quello di sostituire i biglietti del treno con un chip e ha offerto un impianto gratuito proprio nel lounge della stazione. Il microchip è questo qua, all'interno di una capsula di vetro. Di per sé è un contenitore vuoto, sta a ciascuno di noi scegliere che informazioni metterci dentro. Oggi ne inseriamo alcuni che contengono i dati necessari per viaggiare con le ferrovie svedesi. Può togliere l'orologio, per favore? Sono un po' nervoso, non ho mai fatto tatuaggi né piercing, è la prima volta. Faccia un bel respiro profetto. Già finito, grande! Quest'uomo adesso potrà viaggiare sui treni delle ferrovie svedesi senza biglietto, o meglio, il biglietto è dentro la sua mano. Quanti impianti fai di solito? Il mese scorso ne ho fatti circa 200, gli chiedono soprattutto gli svedesi, ma ne ho fatti alcuni in Danimarca, e poi sono venute persone dall'Europa e dall'Asia. Non pensa che così in futuro sarà più facile rubare o comunque accedere ai dati di una persona? Guarda, se c'è una persona che vuole rubare i miei dati, oggi può farlo benissimo, hackerando il mio computer o il mio telefono, anche dall'altra parte del mondo. Ma se quei dati si trovano in un chip come questo, per rubarli quella persona deve venire qui, toccare la mia mano. Quindi direi che il livello di protezione è piuttosto alto. Penso che questa cosa del chip sia fantastica, perché rende la mia interazione con le tecnologie intelligenti molto più semplice. Viviamo in tempi di iperconnessione, e anche i nostri corpi hanno bisogno di essere connessi. Vorresti diventare un cyborg? Certo, io farò il mio meglio per diventare un cyborg. Credo che oggi stiamo cominciando a usare la tecnologia non solo per migliorare la vita di chi ha problemi di salute, ma anche di chi non li ha, come me, che potrò dare al mio corpo nuove funzioni. E gli impianti chip sono appena l'inizio. Ma quale potrebbe essere il prezzo da pagare per la comodità di abbandonare per sempre carte di credito e chiavi di casa, sostituendo tutto con un unico chip, visto che già oggi sono in tanti ad essere interessati ai nostri dati personali? Io l'ho messo qua, perché così è più facile raccogliere i punti nei negozi dove faccio acquisti. L'ho fatto nel febbraio del 2015, e lo hanno anche tutti i miei dipendenti. L'azienda di Sofia costruisce programmi di fedeltà per gli abitanti dei piccoli centri urbani, che per ogni acquisto nei negozi di quartiere ottengono spunti e raccolgono i punti nelle carte fedeltà o nei chip, in cambio dei propri dati personali. Per noi è molto importante dare ai negozi informazioni precise, incluse le mappe dove vive il consumatore, l'età, il sesso, così le aziende possono fare delle campagne efficienti. molto efficace. Grazie.